Dopo Arezzo, ultima provincia in Toscana per l'affluenza al referendum antitrivellazione in mare, con il 26,5%, Pistoia è al penultimo posto. I dati definitivi della consultazione popolare hanno visto in provincia recarsi alle urne il 28,45% degli eventi diritto. I sì sono stati 51.778, pari a poco più dell'82%, i no 11.204, ovvero il 17,79. Vince dunque anche a Pistoia l'astenzione. In regione solo la provincia di Firenze ha superato la media toscana del 37%, con il 33% dei votanti che si sono recati alle urne. Tutte le altre zone, tranne appunto Arezzo, hanno visto risultati oscillanti tra il 28 e il 30%. I sì hanno vinto a mani basse nelle preferenze di coloro che hanno scelto di recarsi alle urne. Se il voto fosse stato valido, questi avrebbero superato l'80%. La punta massima dei voti favorevoli sono stati registrati a Massacarrara e Livorno, dove hanno superato l'85%. Tra le schede scrutinate nelle 310 sezioni del Pistoiese, dove è stato il sì a primi agiare, poco più di mille sono state le schede nulle o bianche. Andando a vedere comune per comune, tre sono quelli dove minore è stata l'affluenza, sotto il 26%, ovvero Sambuca, Cutigliano e Monsummano. Negli altri territori si va da questa percentuale, come ad Abetone, sino ad oltre il 31%, dato registrato nelle punte massime in provincia ad Aliana e Bugiano.